Ok, benvenuti a tutti ragazzi, sono il Gisius E io sono Alex E come potete vedere siamo in un negozio di gatti No, noi siamo su Crysis 3 Non è che è Mario questo, no? È Crysis 3, non sappiamo parcheggiare È Crysis 3 È finito? È finito? Sì Ok Quindi eravamo arrivati qua dove c'è il gatto E dove c'era questo qua Che si era parcheggiato qui Andando contro la legge perché C'era un cartello che diceva che lo si può parcheggiare Va bene Forse è un treno, non lo so Saltalo No E da me il mio qua si saltai i treni Devo dimontrare Comunque è a destra, ecco Bello Don't mess with the samurai Cosa è successo? Ci serve aiuto Cosa si fa aiuto? Dove è il mio amico Oh, ti serve aiuto? Hai fatto mio amico Oddio, oh, cosa è successo? Mi hai fatto un male? Eh, mi dispiace, amico Ma cosa è successo? Ha tirato un calciotto? Non lo so Semplice Stranzo Ah Ha tirato un calcio a porta e si è fatto male Invece io E io lo perdo con un dito Tipo Che belle case Bei posti Però una granata Ok, ci facciamo il video Che qualcuno vuol riconoscere E? Che tu? Da e ho gioca Che Che tu? 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 qual è la cosa fosse ora è morta ah beh dove è la stazione della 34esima 2 km ma dobbiamo aggirare la zona ah beh oh cazzo bellissimo io lo attirerei sicuro come loro ecco anche quelli ma no non c'è tempo ma si togliamo in mezzo cosa fa ma cosa sei impazzito quelle armi ti faranno a pezzi adesso cominci a capire mi hanno preso la nanotuta sono umano umano sai cosa ho sacrificato io per fermare i ceffi chi me lo restituirà merita qual è il piano supporto supporto puntamento e soppressione per sé informazioni io voglio muovermi tu ti becchi il divertimento ah il divertimento è attraversare il campo dove è finito il campo con tre cannoni che si parla le cose cambiano dove vai eh lui sta a riparo tutto bastardo ah io mi butto giù ecco fantastico ok funziona così io chiamerò le posizioni non appena le vedo come questa nel settore 1 delta 0 sono zone in cui potrebbe trovarsi un deposito il nostro obiettivo principale è la torre 3 delta 3 appena prendi le armi faremo fuori diventare misi settore 1 delta 3 tutto bene occultamento attivo lì settore 1 delta 0 settore 1 delta 2 c'è qualcosa intanto questo parla di dopamera lì lì c'è l'uomo c'è l'uomo c'è il cazzo c'è il cazzo c'è il cazzo Ok, qua non ti do... Ti dovrebbero... Ok, provo ad andare in uno di quei pubblici. No, li stanno stravedendo. Si, fraganci dappertutto, ti vedono. E non è che la parola era all'1%, eh. Eh, ma non è quella, torre. Che fai? Non so. Diretti. Mi do una mano a distruggere le cose. Intraccate. Deti... удit... Non guarda nessuna parte di là. Qui, qui, lì c'è una cosa. No. Cosa? Cosa sta succedendo? Basta, ti serve un momento! Lì c'è l'arma. Ma cef, niente. Non possiamo usarla. Ma hai scritto premi? Prendila. Come non si può usare? Si che si può usare. Oh oh oh! Questa è una figata! Prova a sparare. Muore! Ah將, ciao! Poi, ti serve. Ammazzano i bastani tiscassi. Ammazzalo! Ammazzano! E' morto! Sié! Oh... È finito... Ci manchi..." è cambiato anche la la verga ooooh ci volete dirvi che non sapevano niente no dovevi solo buttarci da un buon e trovare l'arma ci sei stato di mezz'ora a cercare cos'è? ah beh spari agli autobus che non ti si distrocca neanche e volevo vedere se sottotitolo ah lo prendo a pugni ma che pugni sono? e perchè è incorporata nel braccio no ci può dai faccio io dove devi scegliere? via devi andare ah di qua ve la droga scusate 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 sicuramente ah io ho usato questa l'ho trovata più efficiente più efficace si ci ha visto? ti ha sgamato ci sono dritta a via come la vita il giro giusto attenzione armi se è vicino alla tua posizione c'è spugno invalicabile c'è spugno no no come si tratta solo mi chiede e ciao c'è anche a me è già qua lui come fa fare se tutta la strada solo ehi come hai trovato non fa separare ma non puoi sparare o hai finto burdi? no finti burdi sai che fammi passare di gente sul deposito per ovviamente ahahah ti ha mai forte che hai fatto tanto no aspetta vado qui ok no ok lo messai ma esiste ci sono buoni bastardo riuscite con la corda io mi sono anche evitato ci quasi che mi ammazzavo sei da qua ok tranquillamente no d'altra parte eh ma sai che è davvero che importante che cosa è importante? ma c'è te non sappia che cosa sei o chi sei tu cosa c'è sono qui no si sembra comunque mi sono bella nel fungo proprio e quando camicia l'acqua ok ci siamo caught up ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo bello bello molto bello ci si si ci si si ci si si Sì, ho capito ma non sono Enrico, lo stiamo anche avrestando, perché guardo a me o andiamo a me? Apri la porta? Perché c'è un altro C4? Apri la porta e li va subito. Però mi sa che si può entrare anche dall'altra parte. Avranno sentito? No, non ho sentito niente, no. Abbiamo aperto la porta. Ok, ci vediamo dall'altra parte. Sì, ci vediamo dall'altra parte. Non credo che abbiano sentito, ma non credo. Ah, avete sentito? Chiedetelo. Ah, perché ci si sa mai! Oh mio Dio! Tu devi andare sulle scale. Sulla torretta. Un metro lo devi avvicinarti. Era difficile avvicinarsi da un metro, sì. Adesso mi ammazza un po' la torretta. Vediamo. Dai. anche uno non basta basta che diventi invisibile e corri e basta no guarda quanti ne ha ammazzati però rimasti due due tre ah ci sono un po' anche su dai tanto lo vuoi eh spera ma perché ecco dovevo toglierlo l'hanno 17.000 brutti vagarospi cominciate ma sono due e tre due adesso cecchinata ragazzi con le frecce ma ce n'è quello ma si è fatto a livellare non sei ah c'è uno ma quasi mi dispiace cosa? ma non mi spiace ah non mi spiace oh 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 hanno lanciato nel fondo ciao ma dai ma dai ma non vuole oh peccato ma non vuole oh mezzo ma perché è colpo singolo quest'arma non posso bloccare il colpo cambia la carta e non posso bloccare il colpo cambia l'arma con qualcuno che muove no 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 non faccio spiegare e poi devi salire avanzare chi ma no ah c'è ancora uno ah no c'è solo tre eh devi salire prima no 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 io ne ascono qui cos'era? guarda ah no c'è uno qua ti copro io proprio ma non lo bastardi sei un bastardi non lo so ma ammazzalo strozzalo dai che stai per finire potrei trozzarlo eh lo so ma non me l'ho fatto fare capo no aspetta non mi cambierò altro aspetta aspetta ecco che una merda ma non ricaricare cambiala vai tanto ce ne hai uno o due ma come stai? non c'è le smiley ma non lo hai peccato ancora ma dai oh ma oh ma ma che storia sono queste? c'è uno ho visto dove? si no è psycho quello è psycho si è ops scusa apri il mantieni corri e scaccia che sa ho visto che lui scusa psycho immagino che ci abbiano sentiti vorrei che ammazzarlo e immagino che ci abbiano sentiti ma dai no non ci abbiano più sentiti perchè li abbiamo ammazzati tutti che cazzo è successo qui? pensa alle scapole nere scopri come sono morti li rai da sopra vedo che succede ah li togli con la schedina lì vediamo le scapole nere qua quanti minuti? si che se ne frega non c'è 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 ma devi fare così cosa devi fare? e fare start informazione sulla storia? quello quello fai messaggi messaggi non c'è che palle fai infatti munizioni munizioni mi venditi io qui che è che sta spartendo che è che è che è che è continuiamo nelle foglie cosa ha fio fuoco 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 vuoi da non aprire vieni 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 da coglioni cos'è? 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 è il mio cane questo è un film ma vedremo chi è nella prossima parte quindi lasciate un commento mettete mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo un po' in un video bene ragazzi ma come si fa a fidare? ma è impazzita questa macchina? ma come si chiama? io non voglio non so no mi sono scherzato ok giro 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 no 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 passiamo con i tempi e abbiamo Peter Griffey ma c'è un buggy? passiamo con i tempi ma non si riesce a girare come stai? ma voglia tre oddio cos'è quello? prendetela 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 oh mi sono che macchina non riesci ad andare avanti? mi fidighi che cosa sono? hai tornato un bosco sono incastrato ok diciamo che va tranquillo ah non si può farla dentro con lui ma forse è un rabbulana io si sto bollinando continua a scopiare